Tornano a protestare i commercianti e i residenti di via Vinciprova e via Settimomobilio a Salerno che da giorni chiedono l'intervento dell'amministrazione comunale per una serie di problematiche. In via Settimomobilio si lamentano le carenze di clienti dopo l'inversione del senso di marcia e la parziale chiusura del vecchio sottopassaggio. In via Vinciprova invece le segnalazioni sono relativi al traffico e al manto stradale in condizioni precarie. La questione però potrebbe trovare adesso una soluzione. In mattinata il sindaco Enzo Napoli e la consigliera comunale Lucia Mazziotti hanno effettuato un sopralluogo in zona. Per il problema di via Mobilio la consigliera Mazziotti ha promesso di attivarsi con il primo cittadino con un tavolo tecnico, con gli assessori all'annone e la mobilità con i commercianti per cercare di trovare possibili correttivi. Per via Vinciprova invece il primo cittadino ha annunciato che ad aprile inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale. Per ora comunque i commercianti restano in attesa con alcuni di loro che se non dovessero cambiare le cose sono pronti a chiudere la loro attività. Noi siamo un'attività, siamo un bar. Ci hanno invertita dieci anni fa la viabilità. Adesso ci hanno chiuso un ponte. Noi non lavoriamo più. Io sono dovuta tornare io di anni per aiutare mio figlio. Prima avevo due ragazzi. Ho dovuto mandarle a casa, non posso pagarle. Perché non lavoriamo più come una volta. Non è che il mio caffè non è buono adesso. Adesso non lavoriamo più. Lavoriamo pochissimo. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare via. Andare via da questo posto e cercarsi un altro posto. E poi questo non è... Ci sta la street control. Io ho perso parecchi clienti. Non si fermano perché alcuni come si sono fermati. Sono venuti dentro e hanno preso la multa. Col senso unico che hanno fatto. Con le strettoie che si creano in vari punti. Noi siamo praticamente isolati. In questa via non c'è più commercio. Non ci sarà più possibilità di fare nessun tipo di attività. Siamo costretti prima o poi a chiudere. Perché tra street control che fanno una continuazione. Macchine che non possono sostare. Sostare, non fermare. Sostare per un attimo. Per ritirare qualche cosa in un negozio. O prendere un caffè. O altra cosa. Solo momentanea. Comunque passa la macchina e fa la multa. La gente oramai è castigata. Non si ferma più. I residenti intanto aspettano il rifacimento dell'asfalto. In via Vinciprova. Sperando anche in soluzioni tampone. Per ridurre anche il fenomeno delle vibrazioni al passaggio dei bus. Ogni volta che passano questi pullman, che poi sono centinaia e centinaia al giorno, creano quelle onde sussultori che fanno rimbalzare le persone dalle sedie. Nel senso che si sente proprio sotto i piedi questo movimento. E che nervosisce poi, tra l'altro. Rende la vita difficile. Uno non può stare a casa perché in continuazione o sta seduto, o sta sulla poltrona mentre vede la tv, sente tutte queste vibrazioni. E ci hanno garantito che verranno ad aggiustare in aprile. Però, frattanto, ci vorrebbero dei lavori, diciamo, preliminari per poter evitare di sentire queste vibrazioni.